non è andato giù eh chi mi ha rubato si fa conso a tutti ehi ehi non ti ah ma bello che partenso di non è che è l'anello questo che? una bestia e poi l'interutore per destaccare il corrente questo Krieger a Milani deve essere del 60 questo minimo